Ma che dire mulioni, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, a supportarmi con un bel mi piace, che dire, è l'ennesima figura da Barbini che abbiamo fatto oggi, perché con la pergolittese, ragazzi, non si può buttare via punti, assolutamente. Per chi sognava, perché per me il campionato ormai è più che chiuso, dopo oggi, chi pensava di andare a riprendere il Mantua, che tra due settimane c'è la partita contro di loro, però ormai poco servirà a quella partita, sinceramente. Dopo l'ennesima prestazione, l'ennesima prestazione vergognosa, perché le occasioni oggi le hai avute, le occasioni oggi le hai avute, non le hai sfruttate, però a livello di gioco, ragazzi, la pergolittese veramente ci ha annientato, tu non puoi soffrire, soffrire in questa maniera qua, perché lasciate stare nel finale, nel finale ormai si sa che la Triestina prova a fare qualcosa, anche nelle altre partite, però noi tutta la partita abbiamo sofferto la pergolittese, loro su un cambio campo hanno fatto gol, e non è stata la prima volta che ci siamo fatti trovare impreparati, più e più volte, noi oggi abbiamo sofferto questi cambi campo della pergolittese, una squadra come la Triestina non può andare in difficoltà così, cioè, primo tempo, avevamo anche cominciato bene, no? Oggi abbiamo fatto anche un buon pressing, solo che loro con, insomma è anche, cioè, è stato un pressing fine a se stesso, no? Perché loro con questi cambi di campo ci tagliavano fuori, però è anche il rischio, no? Cioè, quando tu fai un pressing così, no? Offensivo, è chiaro che ti esponi, però non è possibile, cioè, giocavi con la pergolittese, cioè, al di là dei cambi di campo, loro più e più volte hanno riscatto di farti gol nel secondo tempo, cioè, il portiere, oggi il nostro portiere ci ha salvato più volte, anche se non mi convince più di tanto, perché specialmente nei rinvii, c'è, lascio un po' desiderare, eh? Noi le nostre occasioni le abbiamo avute con Redan, Redan e Zerrak sono entrati nel secondo tempo, sì, hanno cercato di dare un po' di vivacità lì davanti, però si vede che non, cioè, lì davanti noi arriviamo lì dell'area di rigore e sbagliamo tantissime scelte, eh? Perché in primo tempo, Durso, Durso, bravo col pallone, bravo nei dribbling, però, cioè, quante scelte ha sbagliato oggi? Cioè, quante scelte che potevamo andare in porta due, tre volte l'Escano? Oggi dispiace, perché l'Escano era tornato al goal dopo due mesi che non segnava, però, anche lì viene servito poco, cioè, oggi, su me, ha fatto meglio rispetto agli ultimi uscite, no? Cioè, comunque anche il lavoro che fa è un lavoro importante, no? Cioè, ha cercato di far salire la squadra, sì, magari di fare, comunque, cioè, su me lì davanti è stato il meno peggio, eh? Anche nel primo tempo, perché per Teiner, ragazzi, cioè, cioè, è da prendere, è da prendere, è di rispedire in prestito, perché un giocatore del genere io non l'ho mai visto, eh? Cioè, oggi nullo, nullo secondo me anche Petrasso, cioè, io l'ho visto pochissimo, eh? Ha provato a fare qualcosina nel secondo tempo, ma è un po' poco, un po' poco, cioè, si è visto un po' di più Germano spingersi in avanti, Petrasso non si è mai spinto in avanti. Centrocampo, Vallocchia, anche lui, non mi è piaciuto oggi, cioè, c'era dei tiri, veramente, che non servivano a niente, sinceramente. Correia, anche lui, troppo innamorato del Paglione, cioè, anche oggi, ha rischiato, ha rischiato di, di dare la palla alla Pergolettese e far ripartire una ripartenza pericolosissima al centrocampo. Cioè, lì, lì è stato fortunato che l'Abitro ha fischiato fallo, perché se no, quelli partivano e potevano non farti anche il gol. Quindi, Correia è uno di quei giocatori che è innamorato del Paglione. Cioè, a me questi giocatori qua, cioè, veramente, mi danno un nervoso che è allucinante, perché, cioè, puoi darla di prima, devi darla di prima, subito, no? Cioè, all'inizio sembrava, sembrava che eravamo partiti bene, no? Un buon pressing, no? Abbiamo cercato di fare qualche giocata, no? Abbiamo fatto anche una bella azione, stranamente. Dopo ci perdiamo. Ci perdiamo la Pergolettese, cioè, stiamo parlando di una squadra che sta liottando per non ritorcedere la Pergolettese. Ennesima occasione buttata, no? Perché il Pado ha vinto e adesso sono quattro punti dal Pado. Forse l'unica, forse, fiammella, ma anche lì. Cioè, ragazzi, inutile menarcela qui. Cioè, giocheremo per il terzo posto. Cioè, poi, bisogna anche lì vedere, eh, perché tante volte, cioè, arrivare terzi non serve a niente. Cioè, abbiamo visto squadre negli anni di Serie C che sono arrivate terze e sono andato a casa al play-off. Quindi, cioè, si sapevano che arrivare ai primi sarebbe stato molto difficile perché hai il Mantova che è un rullio compressore che è veramente... E il Mantova non è che ha chissà che giocatori fenomenali, eh. Perché noi quest'etate abbiamo speso tanti soldini, eh. Cioè, abbiamo messo tanti soldini. Il Mantova ha preso un allenatore che sta facendo rendere bene la squadra e fa anche un buon calcio secondo me, è Po Sanzini. Noi, noi abbiamo dimostrato che non siamo costanti. Cioè, questa è la partita che non siamo costanti. Abbiamo avuto, abbiamo fatto, sì, buone prestazioni quest'anno, ma siamo stati troppo alte allenanti. Ci abbiamo buttato via punti con squadre di questo calibro qua, no? Le pergolettese che ci aveva fatto, ci aveva fermato anche l'andata che abbiamo perso 2-1 in casa loro. Oggi, oggi vai a pareggiare, vai a pareggiare contro di loro e poi hai perso, hai perso 3-2 con la Binoleff e ti si è fatto rimontare. siccome dicevano è tanto Fontana Freda, il nostro fortino, non mi sembra, anche qua non mi sembra che ormai il nostro fortino siamo noi stessi, non è il problema tanto gli altri, il problema siamo noi che non diamo continuità. Oggi l'abbiamo dimostrato, non siamo continui, facciamo delle belle giocate, anche D'Urso, belle giocate, ma arriviamo lì, noi vogliamo andare in porta col pallone, più e più volte anche nel secondo tempo ci sono state delle situazioni che potevamo tirare, mi pare che Scano aveva fatto anche un bel lavoro in quella situazione, lì il giocatore nostro ci ha aspettato troppo, cioè lì devi tirare, devi tirare forte, cioè tante volte siamo troppo troppo lenti, pigri, macchinosi, la difesa, la difesa oggi non male, male, io ho visto molto male struna oggi, c'è anche nelle letture sempre fuori posizione, no? Anche nei falli si faceva sempre trovare impreparato, cioè per Guglietese tutto il secondo tempo abbiamo sofferto, abbiamo sofferto veramente come dei cani, su me è un pareggio questa partita la potevamo vincere con un pizzico di intelligenza, con un pizzico di intelligenza, perché le occasioni, una di quelle poche occasioni che abbiamo avute, perché oggi secondo me abbiamo creato poco, il gol secondo me è arrivato anche un po' in modo casuale, perché dopo la pergolettese sotto il profilo del gioco ci ha veramente annichilito, cioè hanno rischiato di farci gol in due tre situazioni se il nostro portiere non effettuava delle parate, quindi questa partita dimostra che questa triestina non può secondo me ancora ambire a salire in serie B, adesso la prossima in casa con l'Apopatria sempre a Fontanafredda e dopo tra due settimane ci sarà la partita con il Mantova però ormai secondo me cioè se qualcuno se qualcuno credeva credeva che la triestina poteva andare a rimontare il Mantova il Mantova crollava ragazzi il calcio il calcio cioè non si vive nelle favole cioè nel calcio può succedere di tutto per carità ho visto squadre che avevano 12 punti vantaggi sono crollate però non mi sembra questo il caso perché vedo una squadra che andiamo in vantaggio ci facciamo rimontare anche con la minole F vincevamo 2-0 abbiamo perso 3-2 oggi si è andato in vantaggio loro con apertura a campo ti hanno fatto gol come niente ma non era la prima volta che lo facevano e tu cioè tu la partita la devi chiudere cioè se non chiudi le partite però non puoi sempre arrivare e qui entra il mio discorso che ho sempre fatto cioè non puoi arrivare all'ottantesimo al novantesimo no e sperare di vincere all'ultimo cioè non sempre ti va bene oggi non ti è andata bene per esempio le partite le devi chiudere prima devi segnare prima niente Muglioni fai messo a ver come avevi visto la partita ma disastro disastro ragazzi cioè disastro e bisogna prendere qualcuno bisogna prendere qualcuno cioè su me l'età l'attacco è una situazione preoccupante perché oggi ok hai segnato l'escano ma dopo quanto tempo dopo due mesi dopo due mesi che non segnava cioè per quanto l'hai pagato cioè si ha fatto 11 gol che non sono pochi sicuramente però mi aspetto di più dall'escano ma non è il problema non è qua l'escano perché viene servito poco il problema è tutto l'attacco cioè finotto finotto ho giocato pochissimo e di quel poco che ha giocato ha giocato male malissimo cioè io sinceramente non mi ricordo una partita che ha fatto bene fino a otto Redan anche oggi ha provato a fare qualcosina sicuramente i gol li ha fatti però non è un giocatore che è tanto fumantino no Redan no cioè crea scompiglio lì davanti però non è un'attaccante che ti da che ti dovrebbe fare la differenza in Serie C e noi ci manca secondo me non per forza il Goliador perché secondo me non c'è bisogno di un Goliador però c'è un'attaccante che la butta dentro cioè non c'è nessuno lì davanti cioè non possono fare non può fare tutto l'escano oppure segnare c'è leghine cioè bisogna prendere qualcuno solo che è difficile è difficile niente mulione vi saluto vi auguro buon pomeriggio se vediamo la prossima ma non la vedo benissimo è per l'unione cioè sicuramente stiamo facendo un buon campionato perché rispetto all'anno scorso è stato un disastro però non vedo bene la squadra non vedo bene la squadra cioè vedo una squadra che corre male una squadra confusa una squadra pigra cioè sicuramente non è che sto dando la colpa a te perché poi ha messo anche Mineso cioè è inutile che mi metti tanti attaccanti lì davanti se hai poche idee perché anche oggi su me a Tristina ha avuto poche idee lì davanti la pergoletese ha avuto più idee di noi cioè oggi veramente abbiamo fatto una figura barbina la figura barbina perché tu con la pergoletese devi vincere cioè chi cavolo è la pergoletese con tutto rispetto ragazzi cioè tu sei a Tristina cioè questi da venire le quattro quindi l'ennesima l'ennesima figura no perché cioè io non vedo questa grande squadra non ho visto come dire eh sì siamo più forti sì però nel calcio non sempre vincere più forte perché sennò cioè le partite vanno giocate sulla carta sì dovesse essere la più forte pergoletese però le partite vanno giocate cioè e oggi non mi è sembrata questa grande Tristina sinceramente ma non solo oggi ma è da un po' di partite che stiamo facendo parecchia parecchia fatica buon pomeriggio a tutti sempre forza Triestina e adesso bisogna cercare di arrivare ai playoff in forma bisogna cioè io non farei la corsa sul Padova sul Mantua perché così rischi di sprecare energie inutili abbiamo visto se vi ricordate cinque anni fa che siamo arrivati al playoff che eravamo morti morti fisicamente quindi io a questo punto ormai mai campionato è andato cioè ragazzi 11 punti non li recuperi più cioè il Mantua veramente dovrebbe proprio suicidarsi dovrebbe veramente crullare in una maniera assurda dubito fortemente cioè per carità poi nel calcio può succedere di tutto però secondo me non è questo il caso secondo me quindi io la cosa che farei farei magari qualche acquisto lì davanti per insomma lì davanti ai bisogni di qualcuno e non farei neanche la corsa sulla prima sulla seconda perché sì magari secondo terzo cambia poco magari un turno salti va un turno però tu devi arrivare playoff in forma è un po' non dico inutile fare la corsa però ormai è playoff ragazzi cioè andiamo in playoff e basta però almeno bisogna cercare di arrivare in forma perché playoff non sai chi incontri perché le squadre e gli altri gironi sono tostine quindi bisogna cercare di arrivare in forma e playoff è un calvario l'abbiamo visto cinque anni fa che in finale contro il Pisa abbiamo sfiorato la promozione serie B buon pomeriggio a tutti sempre sempre forza triestina la promozione